Un crollo nel periodo Covid, ora la ripresa. L'attività della medicina, dello sport e dell'Ursuno Dolomiti è risalita dopo il calo del 40% delle visite medico-sportive fatte a registrare negli anni della pandemia. Si è passate così dalle 2.500 prestazioni all'anno pre-Covid alle quasi 1.400 del 2023 e i numeri di quest'anno segnano già un'ulteriore crescita. Ricordiamo quanto sia importante lo sport, l'esercizio fisico, quindi lo stile di vita. La medicina dello sport penso che sia una delle discipline che maggiormente rappresenta quella che è la nostra missione di azienda sanitaria, che è la promozione della salute, la prevenzione delle malattie, la diagnosi e la cura delle stesse e la riabilitazione. Un servizio distrettuale che garantisce i servizi di un'unità operativa complessa grazie alla collaborazione con i reparti di cardiologia, fisiatria, neurologia e pediatria. E proprio in quest'ultimo campo si è realizzato un importante progetto contro l'obesità pediatrica. Adesso lo facciamo come procedura a livello ambulatoriale per le realtà che abbiamo, le realtà del mondo sportivo. Abbiamo anche noi una popolazione 7-8% di atleti obesi. Vorremmo però che questo progetto si realizzasse sul territorio provinciale e non solo, su tutta la popolazione. Ci sono poi le collaborazioni con le Università di Padova e di Siena e le certificazioni per gli atleti disabili. Quasi 1.100 le visite che hanno interessato i minori di 18 anni, agonisti e non. E tra i maggiorenni non sono mancate quelle ad atleti di alto livello, come quelle di Luca Corso, fresco campione italiano di slalom gigante e bronzo in speciale combinata sulle nevi di Tervisio, e di Francesco Toniolo, terzino della Dalomiti Bellunesi che dopo le visite mediche ha visto sfumare il passaggio tra i professionisti dell'Albino Leffe all'ultimo giorno di calciomercato a gennaio. Avevo questa malformazione allo sterno che non faceva stare tranquilli medici e quindi ho avuto bisogno di ulteriori accertamenti grazie anche al dottor Cicarone e altri dottori del Gemelli di Roma che assolutamente hanno valutato il caso e il rischio era veramente minimo. Adesso sono tornato come prima, l'importante era tornare in campo, adesso mi concentro sul finalista giovane.